...uniti nel ricordo del direttore per mille altre battaglie ancora. Buonasera a tutti. Io voglio ricordare, voglio dire giusto due parole. Se siamo qui come Curva Nord Bari, dopo gli UCN, che sono stati gli autori del gemellaggio al comune di un franzo 2006, dove c'era anche il compiato Beck, che è stato uno dei primi che io ho conosciuto, e anche grazie a lui, e questo lo dedichiamo a lui, questo gemellaggio, e vorrei un applauso per ricordarlo. E questo gemellaggio avrà avanti, avrà avanti, ci sarà rispetto, amicizia. Tra due mentalità ultras. La mentalità ultras poi è sempre una e sola. Quindi grazie a tutti. Grazie. Grazie a Vangelo Alvisa Chiara. Grazie. 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 Grazie a Vangelo Alvisa Chiara. 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 Un direttore, un direttore